Signore e signori, buongiorno, benvenuti in questo nuovissimo video. Mi trovo a Dubai in questo momento, sono venuto a Dubai per incontrare alcune persone per una potenziale collaborazione futura, però non avevo intenzione di realizzare dei video, sono venuto qui davvero un paio di giorni. Alla fine ho fatto un contenuto nella business class perché è sempre bello ogni tanto, insomma, rimostrare questa esperienza e ora mi trovo in un hotel e ho scoperto essere un hotel particolare. Di conseguenza ho detto, beh, che fai, non aggiungiamo alla lista di hotel particolari di questo canale il suddetto hotel? Certo che lo facciamo. Ora, in realtà questo sarà un room tour, però la stanza è davvero bella, è bellissima, però non è enorme, non è che ci stiamo per andare a vedere qualcosa di super particolare. La vera particolarità di questo hotel è che è il Guinness World Record come hotel più alto del mondo. Oh, non lo sto dicendo io, lo dice la placca che c'è all'ingresso, vi metto l'immagine qui, c'è scritto che nel 2018 questo hotel ha vinto il premio come hotel più alto del mondo, è un hotel, a quanto pare solo hotel, mi verrebbe da dire, quindi mi sa che non ha appartamenti, o perlomeno è localizzato abbastanza in alto da aver vinto il Guinness World Record, e ha tipo 75 piani, che io dico, vabbè, giustamente 75 piani di hotel mi sembrano abbastanza, va bene, ci credo che siete l'hotel più alto del mondo. Poi magari non è aggiornato e dal 2018 è cambiato. Io sono stato qui a Dubai l'anno scorso nel Burj Khalifa, che è il palazzo più alto, il cartacello più alto del mondo, al cui interno c'è un hotel, però l'hotel si fermava al trentesimo piano, invece qui siamo al cinquantesimo, io sono al cinquantesimo, infatti sono anche un po', cioè, mi sento un attimino in difetto, perché arriva fino al settantesimo, vabbè. Comunque, facciamo un piccolo unboxing, un piccolo room tour, comunque uno appena entra si trova un super specchio sulla sinistra, intanto io sono già in modalità freddo, mi sono messo la tuta perché tra una qualche ora ho l'aereo per tornare a Milano, tra l'altro ho visto anche Sasha, l'altro giorno non ho fatto clip, ho messo una sorella su Instagram, vabbè, ho visto Sasha che si è trasferito qui a Dubai per chi non lo sapesse. Sulla destra invece abbiamo l'armadio, intanto questo si chiama, guarda qua, Gevora Hotel, e ho messo una storia, appena sono arrivato qualche giorno fa, mi ha risposto l'aglia della giusta e fa, no, il Gevora, e oggi sono stato quattro mesi, ho detto, ah, top, le coincidenze. Vabbè, comunque abbiamo una torcia che, guarda qua, c'è una torcia, non funziona. Quindi iniziamo la grande, è la prima cosa che ho provato quando ho aperto l'armadio, ho detto, ah, top, iniziamo bene. Poi abbiamo questa, questa cosa che sembra una roba che potresti trovare nella casa di un nonno, però bello, va bene, cassaforte non ci interessa, qui ho steso le belle camicie, i pantaloni, giusto per non farle stirare, perché erano già pulite da casa. L'unico sbattito è che io viaggio sempre col borsone, non col trolley, quindi ci sta che le camicie un po' di un attimino si stropiccino. Prima di continuare, voglio ringraziare Genshin Impact per il supporto, perché questo video è realizzato in collaborazione con loro. Per chi non lo sapesse, Genshin Impact è un videogioco che da oggi, 7 dicembre, è anche localizzato in italiano. Vuol dire che i testi, le missioni, tutte le informazioni, sono disponibili anche in lingua italiana. Si tratta di un action RPG ambientato in un mondo fantasy e la tipologia proprio che uno deve andare ad essere tecnico è JRPG, che vuol dire Japan Role Playing Game. Quindi c'è un'estetica giapponese o perlomeno che si rifà allo stile degli anime. Come sapete io amo il Giappone, quindi questi panorami, questi immaginari, li adoro a mani basse. Tutta la trama del gioco si sviluppa in atti, quindi più vai avanti del gioco, più sblocchi nuove zone, nuove sfaccettature di questo mondo. E in più è supportato continuamente, quindi c'è un team che con frequenza regolare rilascia nuovi contenuti in modo che il gioco continui a essere longevo. Nuove aree, missioni, personaggi, insomma chi più ne ha più ne metta. La cosa fighissima per quello che mi riguarda è che è uno free to play e due cross platform. Genshin Impact lo trovi su PC, su PlayStation, su Android, iOS e non è solamente cross play ma anche cross save, quindi puoi continuare a giocare da dispositivi diversi che è una figata pazzesca. Come vi dicevo, da oggi 7 dicembre viene localizzato il gioco anche in italiano, quindi io vi invito a scaricare dal link in descrizione il gioco e a provarlo in italiano. Poi andiamo avanti. Abbiamo il bagno, credibile ma vero, il bagno è piccolino, però è piacevole comunque. Abbiamo una vasca da bagno guarda la doccia, quello di gabinetto, non c'è il gabinetto figo, che ve lo mostro a fare? Vabbè c'è la doccia, è simpatica, nulla da eccepire. Qua anzi è tutto minuscolo, guarda, è tutto piccolino, c'è un lavello, quanto sarà? 60 cm per 60 cm, davvero piccolo. Però insomma, fa il suo lavoro, c'è anche qua un telefono per chiamare la reception. Ah, il primo giorno, ora vi faccio vedere, ci sono alcuni resti perché non ho scoperto l'ultimo giorno, cioè l'ultimo giorno, ieri quando sono tornato in hotel ho visto che non avevano messo a posto niente, guarda, è ancora tutto disfatto da quando sono arrivato, sono qui da due giorni, ho detto, perché non puliscono la stanza? Ok che sono 50 piani, anzi, ok che sono 70 piani, magari non fanno il tempo di arrivare al cinquantesimo tutti i giorni, però ho detto, figa, anche meno, vado a vedere e dovevo inserire questo qua, dovevo inserire il cartellino con il simbolo della cameriera, make up room e a quanto pare non era scontato e quindi, quindi, ora vi faccio vedere un attimo in una stanza e ho ancora il room service del primo giorno in cui sono arrivato, sono atterrato a mezzanotte perché l'aereo ha fatto ritardo, sono arrivato in hotel tipo alle due e c'era una fama incredibile e ho ordinato un chicken wrap di cui questi sono i resti, patatine, salsine varie, c'è un odore qua dentro incredibile, voi direte, suri potete buttarlo in un cestino? No, andiamo avanti. Comunque, questa è la stanza in realtà, abbiamo un letto bello grande con questo schienale che è simile pelle di coccodrillo che spero non sia davvero pelle di coccodrillo ma al tatto non mi sembra e posso dire di aver toccato un coccodrillo quindi so che è finta. Abbiamo delle viste non male, abbiamo un'esposizione non so nord, sud, ovest, est come siamo messi però la vista è questa che non è male se posso dirla mia è piacevole come vista questa soprattutto la mattina. ora io ho sempre tirato via le tende ovviamente perché non volevo svegliarmi alle 5 e mezza con l'alba col sole che picchia anche perché qua il sole picchia cattivo nel senso non è che dici è clemente, no, è un raggio di sole, no. Sembra di stare in Max Max come cazzo si chiama Fury Road che è un miracolo se riesce a sopravvivere raga un sole cioè sta per prendere fuoco la città comunque anche di qua c'è una bella vista se mi inclinassi si dovrebbe vedere anche il Bruce Califa una certa ecco quello è il Bruce Califa con la punta però fa troppo caldo se tengo aperte queste tende quindi chiudiamo tutto anche perché qua quando entri in queste stanze c'è sempre la recondizionata sparata non a mille a diecimila io con il fatto dell'operazione operazione agli occhi non posso stare con la recondizionata sparata perché mi si seccano gli occhi poi mi bruciano già ora sono un po' irritati e non è il massimo però la vista bella piacevole se ogni volta io torno a Dubai ci sono 8000 grattacieli diversi cioè non ha senso sta roba è una altro che giungla urbana questa è proprio l'Amazzonia però va bene uguale poi di qua abbiamo una tv che in teoria è smart puoi accedere a youtube fare tutte le cagate del caso però è lentissima cioè tu clicchi il pulsante sul telecomando dopo 30 secondi ricevi l'input quindi bene ma per niente benissimo qui abbiamo dei QR code che sono schiacciati infatti mi faceva troppo rido ho detto ma come scusa ma scusa stampamelo bene no un minimo che cazzo abbiamo l'angolo poltrone con la roba però ripeto qua è l'angolo in cui la mattina c'è un sole talmente potente che se anche solo toccassi la tenda ti bruceresti sto esagerando ma fino a una certa e poi la cosa figa vabbè qua c'è una scrivania piccolo momento studio bar lavoro e di qua abbiamo la cucina quindi questo in realtà potrebbe essere un mini appartamento abbiamo la cucina due piastre in induzione abbiamo il frigo nulla da eccepire anche qui tutto vuoto quindi non so se deve essere un mini bar ma non c'è niente dentro spoiler c'è anche il freezer la cappa e tra l'altro belle le piastre ma c'è il divieto di cucinare fantastico e infatti ho divinato room service ieri poi ho mangiato non ho dormito ieri notte non chiedemi perché ma il fuso orario qui è un po' stronzo perché sono tre ore di fuso orario quindi dici non è che cambia tanto però nel non cambiare tanto ti scombussola tutto perché magari qui è luna però per te è colazione e però devi pranzare ti viene un labbiocco quando per te sono lì dice nel mattino è un casino soprattutto la mattina e ieri tipo ho mangiato in Wendy's che c'è qua dietro che ha aperto 24 su 24 casino lì c'è il caffè pronto insulso insulso peggior caffè dell'ultima settimana non dirò della mia vita perché esagerato però insomma questa è la mia stanza all'interno del Jevora Hotel che a quanto dicono c'è l'ingresso è tipo tutto dorato c'è sta placca enorme che ho scritto 2018 Guinness World Record hotel più alto del mondo va bene ti credo cioè anche perché l'hai scritto lappertutto quindi sarebbe un attimino misleading il contrario e di conseguenza eccoci qua come vi ho detto all'inizio non ho realizzato dei contenuti qui a Dubai anche perché sono rimasto letteralmente poco più di 48 ore e avevo dei meeting che hanno delle cose da fare che si sono rilevate molto interessanti e probabilmente porteranno a delle collaborazioni future poi mi è fatto molto piacere anche rivedere Sasha perché è da tre mesi che è qui a Dubai e nulla per il momento è tutto io vi ringrazio per la visione ci vediamo nei prossimi giorni con dei nuovi contenuti da qualche altra parte del mondo ciao a tutti a tutti